Una torta a tema G7, come mai questa iniziativa nella vostra pasticceria? Beh, è il nostro piccolo modo di partecipare a un evento mondiale che esisterà nella nostra città, nella nostra regione, un modo per dare il benvenuto ai principali leader di Stato, con la speranza che da questo G7 vengono fuori scelte politiche volte a migliorare la situazione di noi cittadini. In questo periodo di incertezze, fatto di guerre e difficoltà economiche e sociali.